Come è partito la guerra mondiale? Non ha saputo dare risposte e tant'è vero che ne è stato travolto, travolto malamente con un regime dittatoriale di massa. Lì, in quel momento, gli anni di freddo della guerra sono anni sorretti dal paradigma economico a livello occidentale che venne poi definito di paleoliberalismo, cioè sostanzialmente un paradigma economico fondato ancora sulla CFR e a livello monetario sulla convertibilità in oro della sterline. La grande crisi del 1929 distrugge gli equilibri molto arrischiati, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo politico interno, quanto sotto il profilo politico internazionale. Distrugge gli equilibri molto fragili che si erano determinati dopo la prima guerra mondiale e la risposta a quella crisi, che è una crisi di sovrapproduzione capitalistica, ed è una crisi di deflazione, insegnano che il nazismo nasce dall'inflazione, no, nasce dalla deflazione. A quella crisi ancora una volta si dà una risposta di destra estrema con tratti palesemente criminali che aveva però in sé quella risposta un pensiero economico che non era un pensiero nazista, era un pensiero parallelo, non c'entravano niente. Un pensiero economico che è stato straordinariamente importante e durata straordinariamente longeva, che si chiama ordo-liberalismo, che è quello che una volta veniva definito il capitalismo renano, l'economia sociale di mercato. Insomma, è una variante di un paradigma, un paradigma che si chiama neoliberale. Il paradigma neoliberale nasce negli anni 30 in risposta da parte di importantissimi economisti, diciamo così, borghesi, che vogliono capire che cosa è successo nel 1929 e vogliono che non succeda mai più. Hanno interpretato la crisi del 1929 come un gravissimo squilibrio, si va da verso l'equilibrio. L'equilibrio si fonda su un assunto, cioè che un sistema di mercato lasciato a se stesso è in equilibrio, cioè mette in rapporto equilibrato domanda e offerta, cioè genera ordine. purché appunto sia un sistema di mercato non inquinato da posizioni di privilegio, vuoi sindacale, vuoi, diciamo così, dei datori di lavoro. Cioè si devono evitare le capacità di ricatto dei sindacati e la formazione di cartelli e di monopoli da parte dei datori di lavoro. Questo, stiamo molto attenti, questo concetto di equilibrio si fonda, implica quella che veniva definita la grande moderazione. Cioè quell'ordine, se nasce dal mercato, se è tutelato dallo Stato, il cui compito è quello di impedire il nascere di cartelli e di sinistre troppo forti, quell'ordine è un ordine che ha come dogma fondamentale il pareggio di bilancio, che infatti è un articolo del Grundgesetz tedesco. Quell'ordine è un ordine che ha come obiettivo fondamentale la lotta all'inflazione. Perché? Perché la tesi è che se i salari crescono troppo c'è l'inflazione, l'inflazione è il sommo male. Torno a dire, la crisi del 29 non fu una crisi inflattiva, però la vera crisi inflattiva tedesca, che fu del 22-23, ha colpito a tal punto la Germania e il suo ceto medio e il suo ceto operaio, che da certi punti di vista ragionano nello stesso modo, che è rimasta nella memoria storica della Germania tuttora oggi. Il male assoluto è l'inflazione. L'ordoliberalismo è una teoria economica fatta propria dalle élite tedesche appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fondata sulla teoria dell'equilibrio e sul fatto che il nemico fondamentale è l'inflazione. In parallelo, una linea leggermente divergente di pensiero economico, quella di Hayek, cioè della scuola austriaca, sostanzialmente eliminava l'intervento dello Stato. quella scuola austriaca produce una propria gemmazione a Chicago ed è Friedman e quello è il neoliberismo in senso proprio, cioè il mercato da solo. tutto ciò, ecco, non diventa paradigma dominante subito. Nell'immediato dopo guerra, anzi, da Bretton Hood, 1944, grande conferenza economica svoltasi nel New Hampshire durante ancora la Seconda Guerra Mondiale per prefigurare l'ordine economico dopo guerra, da Bretton Hood fino al 1971 vige un diverso paradigma, un paradigma economico che ha come obiettivo non la lotta all'inflazione, che importa poco, ma la lotta alla disoccupazione. La scena mondiale è composta di stati sovrani. Gli stati sovrani avranno un bel po' di tempo per ricostruirsi dopo la guerra. La posizione dello Stato nell'economia è centrale, è necessaria. Durante questi lunghi anni di ricostruzione e anche in seguito, perché ci sia stabilità, non basta che il mercato funzioni, il mercato da solo non dà nessuna stabilità, è necessario che ci sia un patto politico fra i datori di lavoro e le forze sindacali e operaie delle sinistre. Patto politico. Ecco. Tradotto vuol dire lo Stato sociale. Questo è quello che noi chiamiamo democrazia. Nella testa nostra c'è questo. Cioè che possono coesistere in modo non distruttivo due delle grandi invenzioni della modernità che hanno fatto sempre un po' di... sono state coesistenti per forza, ma si sono sempre trovate piuttosto in conflitto. Lo Stato e il capitale, il capitalismo, la forma di produzione capitalistica, possono coesistere. Il capitalismo può essere portato a produrre ricchezza che va in parte come profitto in tasca ai capitalisti, ma in parte viene redistribuita in servizi sociali. Le forze di sinistra diventano di fatto riformiste. I tedeschi, che sono molto ligi a reforme, diventano ufficialmente riformisti nel 1959 a Bad Godesberg, quando l'Espede dice che non vuole più fare la rivoluzione. non ha rinunciato a molto, perché non ci pensavano neanche lontanamente, ma insomma formalmente smettono di pensare alla rivoluzione. Da noi, nessuno ha mai fatto questo discorso, apertamente, però nel 1944, quando sbarca in Italia, Togliatti dice subito io non voglio fare la rivoluzione, voglio la democrazia progressiva. E c'erano ipatite di massa, perché questo sistema non era un sistema stabile, era un sistema conflittuale. Cioè, finché c'è capitalismo, c'è conflitto sociale, che si veda o che non si veda, c'è, bene. E dunque c'erano i democristiani e c'erano i comunisti, e che non si facevano la guerra civile. Tenevano in piedi ciascuno modo suo una Costituzione con possibili aperture sociali, implementate un po' per volta, con paure, resistenze, però, insomma, la prospettiva era quest'altro anno andrà meglio di quello che è successo quest'anno. Ecco. Tutti lo pensavano. Se uno si mette a leggere, o a sentire una radio, una televisione, di allora, c'è questo mito insistente del progresso. Progresso. L'Italia sta progredendo. Poi, l'Italia diventa un paese, anche con un qualche peso internazionale, non dimentichiamo mai, l'Italia è un paese vinto, vinto malamente, vinto malamente, che ha perduto in modo brutto una guerra. E praticamente si cerca di impedirle di fare politica internazionale. L'Italia riesce a fare politica internazionale negli anni 50 e 60 nel Mediterraneo. L'Italia diventa un paese pieno di squilibri, badate, l'emigrazione la facevamo noi fino al 1960, andavamo fuori noi, andavamo in Belgio, nelle miniere, cioè, occhio, nel 60 ci sono le Olimpiadi, bellissima cosa, peccato che due mesi prima c'erano stati morti e ammazzati a Reggio Emilia perché la politica era ancora una politica di dura contrapposizione. Quando capitavano dei problemi non gestiti bene, ci scappavano i morti. Però si andava avanti. Poi siamo diventati troppo bravi e abbiamo dato fastidio a qualcuno e dal 69 al 78 ci hanno rimesso a posto, sostanzialmente. Parlo di Piazza Fontana e Moro. O c'erano i partiti perché una società moderna è una società fatta di parti. Poi, giustamente, è cambiato il paradigma economico. Perché? Ma perché questo paradigma che abbiamo detto di Bretton Hood è andato in crisi. Perché? Perché gli americani hanno fatto la guerra in Vietnam e hanno fatto un'inflazione pazzesca e a un certo punto erano tenuti loro perché uno dei capisaldi del modello di Bretton Hood era che c'era ancora lo standard aureo. Solo che c'era la cosa. C'era invece che la sterlina c'era il dollaro. In linea teorica si poteva andare presso la banca centrale degli Stati Uniti della Federal Reserve portando un mazzo di dollari a dire adesso tu mi dai dell'oro fisico. Dell'oro fisico. Standard aureo è questo. Allora nell'agosto del 71 Nixon disse che lui non ce la faceva più. Gli Stati Uniti abbandonavano la parità aurea. Ed ecco il primo grande mattone del muro è stato tolto. Poi si afferma perché poi il capitalismo funziona così c'è sempre una teoria economica di riserva. Nei 30 gloriosi gli esponenti del neoliberismo a parte che in Germania dove erano ordo liberali e comandavano loro da sempre nell'anglosfera negli immensi dipartimenti economici che reggono il pianeta delle università importanti del pianeta c'era un ufficio là in fondo a destra dove tenevano di riserva un neoliberista mentre tutti gli altri erano keynesiani 1974 premio Nobel a Hayek cambia da così a così l'ufficio là in fondo a destra viene occupato dai vecchi keynesiani che si tengono in naftalina non si sa mai e tutti diventano neoliberisti e alla fine degli anni 70 i paesi trainanti appunto l'anglosfera vengono governati da leader politici che hanno come punto fondamentale del loro programma il ribaltamento del modello di Bretton Hood ripeto bloccato dalla stagflazione bloccato dalla stagflazione cioè dal fatto che c'era un'inflazione tremenda e la stagnazione dell'economia sono due cose che la dottrina che in essenza non è in grado di controllare e entra in funzione il nuovo paradigma che è un paradigma deflattivo l'obiettivo è ammazzare l'inflazione e i disoccupati i disoccupati ci penseremo quando avremo messo in moto la macchina capitalistica e il mercato arriveremo all'equilibrio cioè ci sarà l'equilibrio nella domanda dell'offerta i prezzi saranno crollati e ci sarà una buona capacità del mercato di assorbire la forza lavoro e comunque non è il nostro primo problema ammazzare ammazzare